Ciao ragazzi, sono Aredo e bentornati in questo nuovo, incredibile, formativo, educativo, spaziale, croccante, speziato e saporito video sul softair. Oggi rispondiamo a una domanda che chi entra in negozio nell'ultimo periodo mi fa di continuo. Cosa succede ai pallini? Cos'è successo? Quello che avrete notato è che il prezzo dei pallini da softair è partito ed è finito sulla luna, nel senso che si è alzato nettamente parecchio, tanto troppo. Questo è per un determinato motivo che vi andrò a spiegare subito dopo la sigla. Alt! Siamo al Monopolis Softair Shop di Reggio Emilia, link in descrizione, guardaci. Parto rispondendo alla domanda con cui vi ho lasciato, ovvero perché, cosa è successo? E ci verrà in aiuto una carissima marca, G&G. Visto che tutti quanti usate questi sacchi di pallini G&G. Questi che avete davanti sono probabilmente tra i pochissimi e ultimi pallini G&G di vecchia generazione presenti in Italia. Noi ne avevamo uno stock abbastanza corposo che è andato ad esaurirsi per ovvi motivi. I pallini G&G che un tempo tutti quanti utilizzavamo, principalmente perché hanno un buon rapporto qualità-prezzo, quindi hanno delle caratteristiche ottime anche su fucili abbastanza ben lavorati, abbastanza prestanti, e allo stesso tempo un prezzo abbastanza contenuto. Queste erano le prime scelte della maggior parte dei negozi italiani, a parte il nostro che li trattava ma siamo sempre andati su altri marchi, e in generale dei giocatori che utilizzavano G&G perché sono perfetti, come detto, sia sui fucili lavorati che non. Nell'ultimo periodo, come sapete, grazie alla bellissima crisi che c'è stata e al casino successo anche in Ucraina, la lavorazione della plastica che si usa per fare questi pallini e di un'altra serie di componenti in cui non entro in merito perché se no staremo qui delle giornate, è andata a incrinare, diciamo, il sistema produttivo dei pallini. Ecco perché G&G ha chiuso da quelle che sono le nostre fonti, che magari sono sbagliate, una barra due fabbriche che producevano questi pallini e adesso se li trovate, e volendo li potete anche trovare, vanno a dei prezzi folli, molto più alti di pallini di maggior qualità di cui abbiamo già parlato nel tempo, che a nostro parere convengono. Ecco spiegato perché non trovate più i G&G in giro e perché se li trovate costano 25 euro al sacchetto, che mi sembra un pochetto troppo. Un'altra cosa che avrete notato è la mancanza di pallini da 0,25. Perché? Perché tutti quanti usano il 0,25, quindi hanno finito le scorte, i negozi tendono a non comprare sacchetti di pallini che poi devono vendere a 42 euro a sacchetto perché voi non li comprate, piuttosto usate quelli economici e vi spaccate le canne o ve le rovinate. Spiegato perché i pallini G&G sono scomparsi e quando li trovate costano così tanto e la macro situazione geopolitica globale, vorrei andare a proporvi una serie di soluzioni a questa scarsità, a questa carestia di pallini che potrebbero fare al caso vostro. Pazzesco. Ovviamente prima di presentarvi le marche è opportuno dire giusto due cosine. Punto uno, ci sono due tipologie di pallini, biodegradabili e non biodegradabili. Ma ancora prima di questa diversificazione c'è un'altra cosa a prendere in considerazione. Ci sono pallini economici e non economici. Cosa significano pallini economici? Significano che sono pallini di scarsa qualità che vanno bene su determinate pistole o su fucili economici che quindi non hanno canne di precisione dal 6.03-6.04 fino al 6.01. E soprattutto più il pallino economico più la qualità del pallino biodegradabile tende a dare problemi per fattura, per mantenimento della sua forma visto che è biodegradabile e soprattutto come sporco che rilascia all'interno della canna quando viene sparato e dalla possibile rottura del pallino prima che venga sparato che va a spaccare tutto il fucile. Ma questo lo sapete già, ne abbiamo già parlato. I pallini invece non economici, quindi pallini di buona qualità da G&G in su che a questo punto G&G possiamo farci una croce sopra perché o lo trovate come fondo di magazzino oppure vi potete attaccare. Sono pallini di ottima qualità, Nimrod, Tipman, Extreme eccetera 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 che hanno una qualità generale del pallino molto migliore e quindi costano molto di più. Sia quelli biodegradabili che non biodegradabili sono opzioni valide per chi ha fucili ad altiroff, con cani di precisione, modificati e il resto. Se avete un VFC da 500 euro non ci metterete mai dei target dentro, non ci metterete mai dei JS Tactical dentro, non ci metterete mai dei Mimetics perché sono pallini che vi vanno a dare una marea di problemi se per caso succede qualcosa. Ora so che ci sarà qualcuno che mi dirà io uso gli Specna Arns, sono fenomenali e non ho problemi quello che volete. Noi non ci prendiamo responsabilità su questi marchi, noi abbiamo i nostri marchi, economici e non, e li consigliamo. Se voi preferite utilizzare dei JS Tactical, degli Specna su fucili da 500, 600, 700 euro una volta modificati, sono affari vostri. Però non venite a piangere da noi quando vi danno problemi. So già che ci sarà una marea di gente che scriverà nei commenti tantissime miliardi di opinioni contrastanti al resto, quindi vi chiedo già di essere civili. Andando avanti con il video, vi presento prima i marchi economici e poi quelli di livello un pochino più alto. Come marchi economici noi trattiamo principalmente Target, fanno parte dell'alleanza di Evolution come la definiamo noi, sono biodegradabili questi verdi, ovviamente non biodegradabili questi rom, hanno una buona qualità, ovviamente non sono pensati e utilizzabili su fucili ben performanti, perché la loro qualità è un pochino più bassa. Questi sono l'unico marchio che personalmente ci sentiamo di consigliare, per rapporto qualità-prezzo. Ce ne sono altri economici? Certamente. Li volete usare? Potete farlo. Noi usiamo Target perché siamo rimasti piacevolmente sorpresi anche per un brand economico. Ovviamente li producono in tutte le varie grammature, quindi 0,20, 23, 25, 28, e penso si fermino ai 28, forse fanno anche i 30. Noi 30, se usi palline da 30, vai su dei pallini di qualità perché vuol dire che hai un determinato sistema quindi è inutile prenderli di questa marca. Come vi ho fatto vedere prima c'è anche G&G come pallini intermedi, che quindi erano i più utilizzati. Ripeto, noi abbiamo solamente gli 0,20, bio e non bio e tra l'altro stanno finendo anche questi perché non li troviamo più, non ha senso comprarli perché costano tanto quanto costavano a voi, quindi non avrebbe senso. Adesso passiamo ai pallini di ottima qualità. Faccio presente ovviamente che anche se avete fucile economici l'utilizzo di pallini di qualità più alta è consigliato perché non è che se io ho un fucile da 130 euro allora ci posso mettere dentro la peggio cadra che trovo e va bene lo stesso ma usare pallini di qualità più alta comunque va a giovare alla precisione, al volo, alla dinamica del tiro, a tutta una serie di cose che ovviamente voi sapete perché seguite il canale con assiduità. Stavo dicendo comunque che c'è un'altra marca scomparsa, Tipman. Dov'è finito Tipman? Se lo stanno chiedendo tutti gli amanti dell'HPA perché ritrovare o trovare sul mercato roba Tipman in questo momento è pressoché impossibile. Questo è l'ultimo pacco di Tipman tra l'altro che abbiamo in negozio che sono un pacchetto di Tracer da 0,20 e Tipman era un'ottima marca, l'abbiamo utilizzata per tantissimo tempo, purtroppo ultimamente si fa veramente tanta fatica a trovarla quindi l'abbiamo abbandonata. Ultima volta che faccio una piccola parentesi nel video, non venitemi a dire ah ma io online ho trovato Tipman, non vi ho detto che è sparita come G&G, è possibile che troviate da alcuni rivenditori, da alcuni negozianti pallini G&G al vecchio prezzo ma sono fondi di magazzino. Chi ne vende tanti come noi e quindi ha un ricambio più veloce del magazzino si è trovato a non sapere come fare a prendere prodotti Tipman, prodotti G&G perché non si trovano e quando si trovano hanno prezzi astronomici. Quindi ultima piccola parentesi visto che i pallini è sempre un argomento molto ostico. Eccoli qua, i due marchi migliori per il soft air. Questi che si afflosciano, i Nimrod e gli Xtreme. Partiamo dagli Xtreme che secondo me sono quelli più interessanti anche perché Nimrod sono flosciati. Uno dei marchi che preferisco al momento è Xtreme, sempre una branca di Evolution, quindi promossi e fatti evolvere da Evolution. Sono in due formati, quello bio ovviamente con l'etichettina verde e quelli non bio. Questo è molto importante perché Nimrod per esempio fa solamente pallini bio, mentre qui abbiamo le due opzioni. Tra l'altro i bio di Xtreme sono veramente tanto bio perché ogni pallino bio ha una sua percentuale di biodegradabilità. Li fanno in vari pesi ovviamente, dallo 0,20 fino allo 0,30, forse anche lo 0,32 ma non sono convinto. Sia in formato non biodegradabile che in formato biodegradabile. Altra cosa geniale per me è la bottiglia perché sono stati fatti in questo formato a bottiglia ed evitano di viaprirvisi nel borsone o nella sacca del fucile come succede in continuazione a me. Qui avete un tappo da chiudere che è anche indice ovviamente di qualità perché è come le bottigliette, sigillato. Se io lo andassi ad aprirsi andrebbero a spaccare i due anellini della sicura. Sono fatti veramente molto bene e soprattutto con quelli biodegradabili anche avendo un indice di biodegradabilità abbastanza alto. Puoi tornare su di me a fuoco? Grazie. C'è il vantaggio che non sporcano molto la canna, non a livello Nimrod che veramente non sporca niente, anche perché è un indice di biodegradabilità molto più basso. Questi sono veramente fenomenali, quindi la versione bio di questi qui, soprattutto se avete molto molto a cuore l'ambiente, ha veramente un indice di biodegradabilità veramente alto. Infatti effettivamente il pallino diventa veramente così, non si ferma a questo stadio, stato intermedio. Nella bottiglia ci sono 2800 colpi, quindi un pochino meno di un chilo, sono indicativamente 600 grammi, dare e togliere 650 per la precisione. Quindi ne avete un pochino meno, costano comunque in maniera abbastanza contenuta. Chiaramente i pallini biodegradabili costano di più di quelli non biodegradabili, questa è sempre la solita vecchia storia. Se giocate nei boss per piacere usate i pallini biodegradabili, altrimenti Ricco arriva e con la sua grossa va in, vi martella la testa. E lo faccio anch'io, quindi questi sono perfetti, al momento sono i pallini che vendiamo di più insieme a Nimrod. Questi sono ovviamente i non biodegradabili, nota piacevole sempre per voi chiamate l'ambiente, è che sono riciclabili. Quindi sono ovviamente stati pensati per l'utilizzo indoor, non outdoor, però se li tirate su poi dopo li potete mettere nella plastica, sono completamente riciclabili. Non sono di quei materiali che poi dopo finiscono nei fegati dei delfini, così muoiono poverini, povere creature marittime. L'unica nota che posso dire che un pochino mi pesa è che le bottiglie siano veramente molto piccole, nel senso che 2800 colpi rispetto ai 4000-4500, a seconda della grammatura, di questi sacchetti qui, un pochino fa storcere il naso. Perché ovviamente vanno a costicchiare un pochino di più rispetto a quello che siete abituati, perché questa dannatissima crisi dei pallini ha colpito tutti, quindi il costo dei pallini si è alzato dovunque. Però devo dire che se devo scegliere se parare qualche pallino in meno ma avere performance più alte, rimango sempre della mia idea e preferisco prendere pallini di ottima qualità. Terminando con un colosso a nostro parere, sia per quanto riguarda il gas che ci ha stupito tantissimo quest'anno e anche gli anni scorsi, che come caricatori, batterie, ma soprattutto pallini, perché i pallini della Nimrod, ragazzi, sono veramente indice di una qualità molto molto particolare. Prima nota che secondo me è degna di nota, ah che ridere, sono simpatico, è il fatto che Nimrod produca pallini di 800 grammi diversi, a seconda dell'utilizzo. La maggior parte dei pallini di Nimrod, infatti, nasce per fucili da cecchino, quindi per essere utilizzati con fucili di precisione. In questo caso qui abbiamo uno 025 solito, nel suo formato solito, che comunque è un chilo di pallini, quindi troviamo il nostro chiletto di pallini. E sono solamente biodegradabili, come vi ho detto, quindi indipendentemente che siano della grammatura diversa, questi sono biodegradabili. Hanno un indice di biodegradabilità, un pochino più basso rispetto agli extreme. Sono comunque biodegradabili, quindi semplicemente ci vorrà più tempo perché si vadano a biodegradare completamente nell'ambiente. Quindi, oltre ad avere una gamma di pallini e di grammature veramente ampia, molto simile a quella di G&G, infatti per noi Nimrod è letteralmente l'opzione di qualità più alta, con più possibilità di personalizzazione del pallino a seconda di quello che ci dovete andare a fare, di G&G, che costa di più adesso e soprattutto non arriva alla qualità del pallino come questi qui. La scelta di farli solamente biodegradabili ovviamente è molto ambiziosa da parte di Nimrod, ma ragazzi ne vale pienamente la pena. Evito di annoiarvi ulteriormente, ma vi faccio vedere che come vedete abbiamo uno 0,36 e uno 0,40 con sacchetti più piccoli perché sono ovviamente pallini pensati per chi o ha delle R-HOP, quindi non è che può sparare 800 pallini al secondo, o invece ancora meglio per chi ha fucile di precisione che quindi ha bisogno di sparare ovviamente meno colpi e quindi va a ricercare un tipo di munizione molto più ricercato, molto più precisa. Nimrod è veramente spettacolare, è un colosso all'interno del mondo del software e fa dei prodotti di altissima qualità, non mi stufrò mai di dirlo. Non penso che delle conclusioni finali siano necessarie, penso di avervi annoiato già abbastanza, l'unica cosa su cui voglio lasciarvi in conclusione è sempre quella. Personalmente non credo abbia senso andare a lesinare e risparmiare su prodotti di consumo come i pallini, allo stesso modo delle batterie tra l'altro, che sono quelle cose che il nostro fucile mangia in continuazione e che quindi sono a stretto contatto con tutte le parti interne e che quando sono di bassa qualità rischiano di andarle a rovinare. Quindi io capisco voler risparmiare, ma non scendete a patti con la qualità sotto questo punto di vista. Poi ognuno purtroppo, per fortuna, fa quello che vuole. Direi che questo è tutto, io vi ringrazio di essere stati qui con me in questo stupendo sabato post pre-natalizio, non ho idea di quando uscirò la cosa perché sono ubriaco di sentimenti. Io vi ricordo che in descrizione trovate i link di tutti i pallini di cui ho parlato, del negozio, del nostro Instagram, dove dovreste venirci a seguire perché pubblichiamo una marea di contenuti e soprattutto potete partecipare attivamente alla vita del canale. Adesso potete sapere quando escono i video, che cosa esce e un paio di robe extra. Nuovamente grazie di essere stati qui con noi, io sono Red, questo è il Monopoly Softair Shop e come al solito, stay angry! Signore, sono le 2.40, il negozio è ovviamente chiuso. Grazie!